Ciao a tutti, io sono Andrea e benvenuti a Sgananzium. Oggi non vi parlerò assolutamente del gioco di ruolo dell'anno perché in realtà ne ho già parlato precedentemente, trovate il link sotto in descrizione. Oggi invece vi parlo di un candidato al gioco di ruolo dell'anno, un titolo davvero validissimo che, diciamo, attingerà dalla vostra videoteca mentale. Se tutto quello che ho detto vi suona assurdo, portate pazienza perché adesso ve lo spiego subito. E vi sto parlando di B-Movie, che non ho più con me perché ho la copia in pdf, un gioco di ruolo da 2 a 5 giocatori, diciamo che questo è il numero ideale, per una durata di circa una serata, quindi dalle 2 alle 3 ore. B-Movie permette ai giocatori di creare nell'arco di una serata un vero e proprio film, senza alcuna preparazione ma improvvisando tutto sul momento. I B-Movie, nati negli anni 30, sono girati in pochi giorni, con budget ridotti e riciclando scenografie o costumi di film ben più famosi. È proprio questo che viene richiesto ai giocatori, attingere dalla propria videoteca mentale e creare insieme non un film, ma il film. I personaggi impersonati dei giocatori saranno proprio gli attori del film, mentre il master avrà il ruolo di regista. Ma è bene precisare due regole importantissime per questo gioco, nulla è realmente impossibile ed esiste solo ciò che può essere messo davanti alla telecamera. Immaginate ora di fare un salto indietro nel tempo. Immaginate uno di quei posti mitologici chiamati videonoleggi che andavano molto dai 10 ai 15 anni fa. Ora con lo streaming non ce n'è più la necessità perché praticamente i film e le serie tv ci vengono automaticamente recapitate a casa tramite internet. Ma una volta si doveva fisicamente andare a noleggiare il film che si voleva guardare, soprattutto se si voleva organizzare magari una serata in famiglia o con gli amici. Quindi che cosa si faceva? Beh, si partiva magari andando verso il genere di nostro interesse, se magari avevamo voglia quella sera di guardare un film horror o un film d'azione, prendevamo in mano il dvd o la videocassetta se avete un'età più vicina alla mia e cominciavate magari guardando il titolo, guardando le illustrazioni della copertina, poi magari girando la confezione del dvd, del film e guardando il blurb, cioè le poche righe che appunto descrivono di che cosa tratta il film, magari alcuni fotogrammi delle scene chiave che potremmo trovare all'interno del film e decidendo appunto sulla base di tutti questi aspetti. Allo stesso modo, all'inizio della partita i giocatori devono decidere il genere del film, ci sono sei macrogruppi nel manuale e ogni genere influisce su alcuni aspetti della creazione e gestione della partita. Il flavor, cioè la direzione presa dal genere, un horror può essere per esempio di animazione, oppure epico, storico o addirittura una commedia. Il titolo, che stabilisce quale sarà il centro dell'azione, se per esempio lo chiamiamo il bosco del terrore, sarà chiaro che il film parlerà di un bosco che può nascondere qualche terribile segreto, l'immagine di copertina, che serve a trasmettere il mood del film, e la quarta di copertina. Quest'ultima fase è un po' più delicata di quelle che abbiamo già visto, perché necessita della scrittura del blurb, come abbiamo visto in precedenza, sono appunto quelle poche righe che descrivono per sommi capi quali sono i protagonisti del film, su cosa verte il film, magari con che cosa andranno a scontrarsi i protagonisti, e appunto serve per catturare l'attenzione dello spettatore. Il blurb deve tratteggiare a grandi linee chi sono i personaggi principali, il luogo e il tempo dell'azione, e gli eventi scatenanti che danno origine al film. Una volta scritto il blurb, si individuano quali sono le parole chiave, cioè i termini legati a concetti che i giocatori vorrebbero vedere in gioco, come per esempio soldi o esplorazione, e il problema, cioè il punto attorno al quale nascono tutti gli spunti narrativi del film. In un film d'azione, il problema potrebbe essere, per esempio, vendicarsi del boss malavitoso di turno che ha fatto fuori la famiglia di uno dei protagonisti. Quindi si passa alla creazione dei personaggi interpretati dagli attori. Ogni giocatore ne crea uno partendo dal nome o soprannome, una descrizione, e sceglie una delle parole chiave viste in precedenza alla fa propria, eventualmente espandendo il concetto se troppo specifico, e ottiene un numero di caselle special in base al genere del film. La sezione Il mio scopo è va compilata durante la partita, scoprendolo mentre si gioca. Questo serve a capire qualcosa in più della vita privata del personaggio, creando delle sottotrame che rendono il film più interessante. Anche Sono Capace di va compilato durante la partita, con particolari doti fisiche o mentali, abilità particolari o tratti nascosti. Di contro, gli altri giocatori dovranno controbilanciare ogni capacità con un tratto negativo su anche se il personaggio potrebbe essere capace di trattenere il respiro per 10 minuti anche se ogni volta che mente gli parte il singhiozzo. Una volta creati i personaggi, poi ogni giocatore crea un fotogramma, come se fosse in realtà proprio un vero e proprio fotogramma estrapolato dal film. Questo serve similmente alle parole chiave per manifestare agli altri giocatori e anche al regista che cosa ci piacerebbe vedere all'interno del film e quindi è come se stessimo vedendo un fermo immagine in anteprima di quello che sarà il film. Un fotogramma potrebbe essere deserto del New Mexico, un'auto procede a fare i spenti verso quello che sembra un ranch abbandonato. Ma quindi come avviene nella pratica una partita a B-movie? Beh, questo va immaginato appunto come un film girato in pellicola. Questa ha un costo importantissimo sull'intera produzione del film e quindi va centellinata. La durata del film è quindi definita dalle scene che è possibile girare e il numero delle stesse è determinato dal numero di attori. Da notare che questo numero predeterminato di scene può cambiare durante il corso della partita diminuendo o aumentando in base a vari eventi. Un attore che mette in scena il suo fotogramma per esempio allunga il film di una scena. In testa e in coda alle scene troviamo rispettivamente l'apertura e il finale che saranno descritti unicamente dal regista. Tutte le scene centrali invece sono solamente aperte dal regista che descrive praticamente il luogo e il tempo in cui ci troviamo e quali sono gli attori che vediamo in campo ma poi lascia appunto agli attori il ruolo di popolare la scena e vedere che cosa succede. Quindi gli attori interageranno tra di loro interageranno con l'ambiente, con i personaggi non giocanti cercando comunque di mantenere sempre un focus su quella che è la risoluzione del problema cercando appunto di portare sviluppi interessanti all'interno della trama e lasciando perdere magari un pochino le descrizioni fine a se stesse. Nel momento in cui il regista nomina una parola chiave il personaggio che ha scelto quella parola durante la creazione del personaggio può prendere momentaneamente le rating della narrazione sempre contestualmente alla parola chiave. Le parole chiave sono utilizzate dagli attori proprio per intromettersi nella narrazione del regista e inserire elementi che piacciono a loro che vorrebbero appunto vedere all'interno del film. Ma può essere anche lo stesso regista che letteralmente può obbligare attraverso sempre l'utilizzo di una parola chiave un attore a contribuire egli stesso al proseguo della storia. Essendo un gioco di ruolo sprovvisto di dadi e caratteristiche dei personaggi tutti i confronti sono risolti in maniera arbitraria e collaborativa tra i giocatori ma se c'è un disaccordo tra regista e attore quest'ultimo può spendere un suo special per averla vinta e decidere lui come si risolve il conflitto. Gli special quindi permettono di influenzare la storia a proprio favore mentre usare parole chiave contro se stessi aiuta a recuperare gli special stessi. Importante ricordare che gli attori non possono introdurre elementi che non siano già comparsi prima o che non appartengono alla loro specifica capacità ma ogni genere ha i suoi cliché e l'attore può eventualmente utilizzarne uno dalla lista specifica barrandolo. Torneranno tutti disponibili quando saranno tutti barrati. I personaggi non giocanti invece sono gestiti dal regista e possono essere o comparse o comprimari. Se sono comprimari vengono corredati da un nome, un obiettivo cioè cosa lo spinge ad agire nel film e devono aver preso parte a più di una scena. Le scene quindi si susseguono una dopo l'altra ma ricordando sempre che ogni scena deve portare in campo il problema del film o a fare azioni volte alla risoluzione di questo problema. Dopo l'ultima scena avviene invece il finale che è ad opera esclusivamente del regista. A questo punto gli attori non possono più utilizzare né fotogrammi né parole chiave quindi il regista avrà l'incarico, il compito di narrare il finale più epico o più drammatico possibile. B-movie è stato proprio una sorpresa un gioco con regole chiare e precise e nemmeno troppe per costruire insieme ai propri amici un vero e proprio film di serie B in tutto il suo splendore. L'assenza di caratteristiche numeriche, tabelle e tiri di dado lo rende appetibile anche ai giocatori occasionali vuoi anche per una durata contenuta un film può essere giocato nell'arco di due o tre ore che lo rende quindi perfetto per le serate tra amici ma anche per chi cerca la costruzione di una vera e propria campagna anche creando veri e propri sequel come per esempio in Star Wars o in Diana Jones. Il fatto che sia un gioco di ruolo che parla della realizzazione di un film non è una cosa da dare tanto per scontata perché aiuta i giocatori ad attingere diciamo così dalla loro videoteca mentale quindi è difficile ritrovarsi veramente in uno stato di paralisi da carta bianca dove effettivamente non si sa che cosa portare in campo. Magari potrebbe semplicemente bastare ripensare all'ultimo film che abbiamo visto o a una scena particolarmente divertente che magari citiamo talmente spesso che magari questa volta è proprio il caso di portarla in scena. I cliché poi aiutano ulteriormente i giocatori a diciamo rimanere un po' sul binario del genere appunto questi cliché servono per essere un po' guidati senza essere obbligati e quindi a mantenere una narrazione più coerente possibile con il genere che si sta giocando. Nonostante comunque il gioco si presti benissimo per essere giocato in chiave demenziale o comica B-movie può anche essere tranquillamente affrontato in chiave più seriosa. Considerazione importante è che il peso del ruolo del regista all'interno del film varia in base alla proattività degli attori. Più questi ultimi saranno attivi nella narrazione del film più il ruolo del regista passerà in secondo piano fino a renderlo poco più di uno spettatore. Al contrario invece giocatori tendenzialmente passivi tenderanno a trasformare la figura del regista in quella di un master tra molte virgolette tradizionale cioè responsabilizzarlo molto di più. Anche se comunque rimane altamente sconsigliato prepararsi del materiale prima. Il bello del gioco è appunto prepararlo tutti insieme sfruttando non solo la fantasia di ogni giocatore ma anche appunto la sua idea di genere vedere come avrebbe voglia di sviluppare il suo film d'azione preferito o il suo film horror preferito in questa scelta corale che sfocerà proprio nel vostro film. Se quindi come me siete amanti del cinema e ripensate alle serate sul divano a film noleggiati con un po' di nostalgia date una possibilità a B-movie. E questo era B-movie se come al solito volete innescare la solita discussione costruttiva sotto il video avete appunto i commenti qua sotto per farlo. Io in ogni caso vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta vi ricordo che è sempre attivo il sito www.sgaranazion.it sotto questo video potete trovare tutti i link a Facebook, Twitter, Instagram, i social insomma tutte le pagine e i siti che reputo interessanti vi ringrazio nuovamente e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Ciao!